Buongiorno, ci incontriamo nel video di oggi per parlare di un altro punto di agopuntura, il vaso concezione numero 8, Qizong in lingua cinese. Il vaso concezione 8 si localizza sull'ombelico. Qizong tradotto infatti in latino diviene medium umbilisi, che in italiano significa il centro dell'ombelico, indicando primariamente l'anatonia del punto. Vaso concezione 8 ha tuttavia una variante di nome punto, ovvero Shen Wei, che tradotto in italiano significa torre di guardia per lo Shen. Shen è un termine tecnico nella tradizione cinese, che definisce quella forza immateriale che configura e mantiene in vita l'individuo, impedendo ai liquidi e alla materia che lo compongono di cadere in basso. Per coloro che amano il riduzionismo, in medicina lo Shen è il campo elettromagnetico prodotto dalle varie attività biologiche. In ogni caso lo Shen è la parte sottile e intangibile della vita che anima il corpo, lo Shen è ciò che cessa con il decesso, oppure si dirige altrove secondo le proprie convinzioni. In ogni caso con la morte lo Shen alloggiato nell'orbita funzionale cuore se ne allontana, smontando progressivamente ogni divisione, incluso il sé. Ricordiamo che l'ombelico è la cicatrice residuale dopo il taglio del cordone ombelicato. Ed è proprio durante la vita intrauterina che lo Shen discende per animare la vita nascente, sostituendo lo Shen materno. E in tal senso è torre di guardia per lo Shen. Ora vediamo le indicazioni cliniche per vaso-concezione 8, per come risultano dei testi antichi. Questo punto si utilizza per compensare le percussiones, che sono un termine tecnico che definisce nella tradizione cinese le malattie veloci e violente. Per esempio la prima a cui pensare è l'avvento percussio, di carattere neurologico, lo svenimento dovuto a epilessia, insulto neurologico o qualsiasi altra causa di tipo nervoso centrale. Tra queste WC8 si applica in particolare per l'opistotono, che è una retroflessione compulsiva della testa e del corpo. Tra le percussio per le quali vaso-concezione 8 è indicato, c'è anche percussio estus, o quello che noi chiamiamo il colpo di sole. Si applica vaso-concezione 8 per la percussio abdominalis, che è una colica addominale acuta, violenta, accompagnata da diarrea, ma di cui le caratteristiche principali sono un passaggio molto rapido dallo stato di benessere a quello di impegno patologico acuto. Vaso-concezione 8 si applica nel prorasso retale, sempre con la caratteristica che insorge velocemente, in modo improvviso. Il punto si applica anche in caso di intolleranza al latte materno. Ricordiamo appunto che si tratta della cicatrice di ciò che univa la persona alla madre. Bene, con questo siamo alla fine del video di oggi. Lasciate un commento, una domanda. Sarà a mia cura rispondere a tutti. Spero di vedervi presto ancora. Arrivederci!